Centini e direttori di Uragrici, un cordiale saluto dal direttore Massimo Taggiasco. Consueto appuntamento per fare il punto della situazione dopo le ultime due vittorie che hanno un po' risollevato il morale dei tifosi, ma direi che hanno anche resistito alla squadra una certa consapevolezza della propria forza, quella che era già sulla carta la squadra da battere del girone che noi speriamo che continui e torni ad essere tali. Dicevamo due vittorie, la prima forse in caso con l'Albino arrivata negli ultimi minuti la possiamo considerare una vittoria ancora fortunata perché è maturata quando la squadra è in inferiore età numerica negli ultimi minuti di gioco. Quella che invece abbiamo ottenuto a Piacenza è stata una vittoria strameritata frutto di un dominio assoluto per tutti i 90 minuti, direi dal primo all'ultimo minuto perché fin dal fischio di inizio l'Alessandria ha dominato e ha dimostrato di essere nettamente la squadra più forte in campo. La prossima è ancora una trasferta, si gioca a Bassano che è tradizionalmente un terreno ostico, il Bassano è anche la squadra che guida la classifica. Ci eravamo un po' persi alle spalle del Bassano ma siamo ora di nuovo sotto, siamo a 4 punti quindi un eventuale vittoria ci porterà almeno 1, ma non è solamente il problema di quanti sono i punti di distacco dal Bassano. Il problema è che questa incomincia ad essere una partita verità, una partita che ci può dire qual è la forza reale di questa Alessandria. Mancherà ancora l'Oviso che è un po' l'uomo su cui si punta per fare il salto di qualità definitivo, però diciamo che dopo queste due vittorie ne aspettiamo una terza, ma soprattutto aspettiamo di capire se la vera Alessandria è quella vista nelle prime gare della stagione, quindi in certe piuttosto conclusionaria o se invece è quella spigliata, autorevole e forte che abbiamo visto trionfare in quel di Piacenza. È logico che noi siamo ottimisti, siamo tifosi e proprio andiamo per la seconda risposta, per la seconda ipotesi. Per noi questa è una squadra che alla lunga deve vincere, deve fare la differenza, deve dominare il girone. Vedremo se sarà capace di farlo anche sul campo del Bassano che sicuramente oltre ad essere una delle squadre che da sempre ci hanno dato fastidio sia sul terreno amico che a casa loro, è anche una delle candidate alla vittoria del girone e quindi comincia ad essere uno scontro diretto, meno male che ce l'abbiamo all'andata sul terreno loro perché così potremo comunque giocarci la carta della partita in casa al ritorno. Quindi siamo estremamente fiduciosi che vedremo una grande partita e soprattutto vedremo una grande Alessandra. Chiudo il mio intervento ricordando proprio oggi, mentre registriamo queste immagini, ci è giunta la notizia della morte di Enrico Dolso, uno dei grandi protagonisti dell'ultima promozione dell'Alessandra in Serie B, una squadra veramente indimenticabile. direi che la figura di Dolso era stata forse una di quelle più care ai tifosi, questo uomo di genio di sorregolatezza che forse con la sua classe ha raggiunto poco di quello che avrebbe potuto ottenere se avesse avuto forse un altro calattere perché le doti tecniche erano eccezionali a livello direi mondiale quando tutti lo ricordano da questo tunnel che fece a Rudi Krohr quando già era avanti negli anni, ma la sostanza di questo genius regolatezza che incantava quando era di vena buona. Lui ha sempre detto che alla carriera forse ha preferito un certo tipo di qualità della vita, ha preferito vivere piuttosto che sacrificare l'esistenza negli allenamenti pesanti, nel rigore della vita da sportivo fermo e concentrato sull'obiettivo, lui ha preferito il Carpe Diem e noi tutto sommato non sappiamo dargli torto e lo ricorderemo sempre come colui che era in ogni momento in grado di fare la differenza sul campo. Grazie e un saluto a tutti quanti, arrivederci.